Un modello innovativo per tutto il sistema di mobilità delle marche, funzionale allo sviluppo del turismo e all'incremento della mobilità quotidiana. La ciclovia del Metauro era stata definita così dall'assessore regionale Francesco Baldelli in occasione della firma del protocollo d'intesa con il comune di Fano per dare il via alla realizzazione dell'infrastruttura e dei tratti della ciclovia adriatica che interessano il territorio fanise. Dieci in totale i comuni attraversati per 74 km di lunghezza, invece il finanziamento stanziato che coprirà la realizzazione del tracciato di 35 km da Fano a Fossombrone passando per Cartoceto, Colli al Metauro e Monte Felcino è pari a 6,5 milioni di euro. Una cifra incrementata rispetto alla disponibilità iniziale grazie ai 2 milioni aggiunti dall'assessorato all'infrastruttura della regione e che pone le basi per candidare la ciclovia del Metauro a far parte del gruppo delle ciclovie nazionali. Nel corso di questi mesi però non sono mancati dibattiti, confronti e polemiche. In particolare dopo l'invio delle procedure di esproprio alcuni residenti hanno presentato osservazioni e chiesto una modifica del tracciato. È il caso di Via Galilei per il quale giovedì 2 febbraio partirà una sperimentazione di senso unico alternato che proseguirà fino al 9 febbraio nel tratto che va dal civico 65 al 68. Ad illustrare maggiori dettagli l'assessore ai lavori pubblici del comune di Fano, Barbara Brunori. È una sperimentazione aperta, cioè nel senso che non è semaforizzata, è a vista e sarà costituita semplicemente da dei New Jersey che in quel caso ingombreranno una corsia di marcia proprio per far sì che il traffico sia uno alla volta. Questa è una sperimentazione che faremo per una settimana propedeutica a quella che naturalmente è la ciclovia del Metauro, è una ciclovia che stiamo progettando insieme alla Regione Marche e per cui ringrazio l'assessore Baldelli e tutti i tecnici che si sono messi a disposizione perché da loro prima a proposta loro proponevano di passare in una via che è sul retro di Via Galilei per la quale ci sono arrivati comunque 9 osservazioni. e alla luce anche di quelle che sono state le tante richieste dei residenti di quella via di decelerarla perché la velocità dei mezzi in transito era sempre piuttosto elevata, noi abbiamo pensato di far sì di fare una nuova proposta e quindi appunto di far passare la ciclovia su Via Galileo Galilei. Per far questo abbiamo bisogno di una sperimentazione perché le cose non si inventano naturalmente e devono poi conciliarsi con quello che è la vita di tutti i giorni e quindi con i nostri bisogni per cui una settimana verificheremo un po' l'impatto sul traffico e poi procederemo. Colgo l'occasione anche per ricordare che tutte le osservazioni possono prevenire entro il 6 di febbraio rispetto alla ciclovia del Metauro, una ciclovia che è consultabile anche sul sito del Comune di Fano proprio sulla parte legata all'amministrazione trasparente e le opere pubbliche, all'interno troverete davvero tutte. Le osservazioni invece vanno rivolte comunque alla PEC della Regione Marche.